Buonasera, mi chiamo Riccardo Pieralli, ho 43 anni e vivo in provincia di Arezzo. Ho conosciuto Simone Calisti qualche mesi fa mentre partecipavo ad una webinar organizzata da Sapienza Finanziaria su un tema molto interessante per me, la fiscalità nel trading. In quell'occasione Simone spiegava il complesso mondo fiscale delle operazioni finanziarie e sono rimasto molto colpito dalla sua competenza rispetto a queste tematiche che venivano affrontate ma soprattutto sono rimasto molto colpito dalla modalità semplice con cui si approcciava a argomenti piuttosto ostici come le tasse e la dichiarazione dei redditi. E li rendeva molto facilmente comprensibili anche per chi non avesse particolari competenze specifiche su questi temi. Mi è piaciuta molto soprattutto la sua capacità di analisi delle varie situazioni che venivano prese in considerazione facendo riferimento a vari esempi sia come persona fisica che come persona giuridica. E quindi insomma ho notato che veramente Simone aveva una straordinaria capacità di consigliare la migliore soluzione per quel soggetto in quella specifica situazione. Qualche settimana dopo ho deciso di contattare Simone personalmente per conoscerlo e chiedergli un parere sulla fattibilità di un progetto che io e la mia compagna avevamo in mente di concretizzare cioè la creazione di una società responsabilità limitata. Simone esattamente come avevo già constatato prima precedentemente è stato disponibilissimo e abbiamo fissato un incontro Skype in cui io e la mia compagna abbiamo avuto modo diciamo di sviscerare tutte le varie questioni che sono più difficili da comprendere riguardo questi aspetti più che altro fiscali nella costruzione della nuova società. Simone ha oltre ad avere una grande competenza ha anche una grandissima capacità di comprendere i bisogni dei suoi clienti per proporre la migliore strategia operativa da seguire per arrivare all'obiettivo riducendo i costi e aumentando i profitti di gestione. Il rapporto di collaborazione che si è instaurato tra noi mi ha permesso qualche giorno fa di costituire questa società e con l'aiuto e il supporto di Simone è stato davvero determinante veramente prezioso perché a volte soprattutto all'inizio quando si iniziano appunto delle attività imprenditoriali la burocrazia che ci si presenta davanti a volte spaventa e sapere che comunque c'è una persona professionale che ti supporta in tutti i passaggi della creazione appunto di questa entità che non esiste, ti tranquillizza e ti fa andare amanti tranquillamente appunto senza difficoltà. E ringrazio davvero Simone per questo, per quello che ha fatto e per quello che sta facendo e consiglio veramente a tutti coloro che cercano un professionista competente e attento a proporre le migliori soluzioni e azioni da intraprendere per affrontare le loro situazioni personali, imprenditoriali specifiche perché io mi sono trovato benissimo. Buona vita a tutti, ciao!